Tra le novità di ConfCommercio 2024 vi è sicuramente la card Valore e Bellezza, che è una card sia fisica che digitale, che si sviluppa all'interno dell'Italia della Bellezza e stiamo sviluppando assieme ai professionisti di valore locale. Come funziona? È una card che si basa sul cashback. Il cashback è ormai un sistema da tutti riconosciuto, un sistema che tutti conoscono, ma che nella sua accezione tradizionale vuol dire dare più potere d'acquisto al consumatore finale che può consumarlo praticamente ovunque. Nel nostro progetto invece il cashback è vincolato, cioè ciò che viene investito sul territorio resta sul territorio e sviluppa nuovi acquisti. Quindi il consumatore finale ha diritto ad un cashback che può però sfruttare solo all'interno delle attività dell'itinerario della bellezza. È un modo sicuramente per valorizzare tutti coloro che hanno investito, aprendo un'attività nei nostri borghi, dentro terra, ma piuttosto che anche nella costa, ma è sicuramente un modo anche per valorizzare l'utente finale che sul territorio poi investe il proprio capitale. Come è possibile richiederlo? Allora, verrà richiesta tramite i sportelli di confcommercio, i punti IAT, piuttosto che tutte le attività, le sedi di confcommercio nel territorio e che ovviamente poi comunicheremo nel momento in cui il progetto diventerà fattivo perché lo stiamo ovviamente realizzando in questi giorni e anche in questi mesi. Poi faremo un grande, diciamo così, evento di lancio e lì indicheremo tutte quante le sedi in cui è possibile richiederla. Ma siccome sarà anche digitale, si potrà richiedere poi ovviamente anche online tramite il sito adesso dedicato. Grazie. Grazie. Grazie.